ok ciao a tutti i ragazzi che erano noti in questo dodicesimo episodio della Leopak allora a telecamera spenta ho cucinato tutte le cose e sono andata a prendere un po' di carbone perché qua veniva subito cioè ragazzi non è che mi sono annoiato perché io dormivo sempre per far passare il giorno la notte eccetera vabbè noi eravamo rimasti con l'andare nel nether bene allora diamo l'accendino sì perché se ci spara un gust e spara contro il portale siamo fottuti perché non abbiamo l'accendino e non possiamo graffatarlo nel nether ce ne saremmo potuti se qua non riesco a salire allora ragazzi andiamo nel nether cominciamo un po' a laggare ma è normale penso vabbè devo prendere più glowstone possibile ok vecchie ne chi questo è il nether tanti più di zambi allora ecco la vedo tantissima cosa ciao amici come state va bene allora allora devo salire di qua ok sperando oh ragazzi ogni volta che vado in un qualsiasi nether trovo una portezza ma cioè stiamo scherzando ma stiamo scherzando allora vabbè intanto mi putto no ragazzi no guardate chi c'è là guardate no un gas sono abbastanza lontano vabbè io da quel portale lo vedo vabbè facciamo le cose oh madonna no ragazzi non ascendo stiamo scherzando stiamo non non beh credo di uno stacco da 64 ma poi ripassiamo no ragazzi non ti dimmi che c'è il rito oh madonna beh anche se te ne copriamo un corpo no non ti arrivi non ti arrivi ma ragazzi se c'è caduta qua addio no guarda sto parlando pure sta cazzo di cosa oh madonna no no dove devo andarci là aspettate ok spazziamo tutto però è un bel po' c'è uno stacco di tutto andrebbe bene oh madonna oh madonna ok però devo spazzarlo ok stiamo calmo non caderemo giù ok andiamo qua e spazziamo ok io voglio solo io voglio spazzare ok ma quanta c'è ragazzi questa è l'unica che prendo oh my god ma ragazzi ma ragazzi mangio ho paura che viene lì drastico mi vede da chissà quanti chilometri o metri sì ma io devo risalire ok ma quanto c'è ma guardate un po' quanto c'è ciao barboni non vi colpisco se no venite in 3.000 contro di me vabbè li ho presi tutti qua con un altro e no ragazzi no no io intorno al portale ragazzi è proprio lì no ragazzi io vado al portale non mi impiego un cazzo no ragazzi se quello mi vede in mi ha visto mi ha visto cazzo oh madonna mia no ragazzi vai muoviti ragazzi per un pelo no per un pelo sì ma ragazzi se adesso è notte è uguale per un pelo non era pure notte no ragazzi vado dentro casa e non mi muovo più ma non mi muovo più ma non mi muovo c'è ragazzi no ah non ho fatto un bel 4 stack più 24 eh no ragazzi io mi sto cagando sotto ve lo dico c'è ma quello una cosa potrebbe andare di peggio che esce dal portale viene qua ma non ci credo dovrei dire subito di come iniziare a fare la filosofa per stone e tutto il resto ma a chi stiamo se è nudo ok allora ossidiana diamante e il della pietra mi serve della pietra vado a cucinare questo vado di cazzo e il carbone ok ok mettiamo cucinare vado delle messe ecco cucinare allora mettiamo qua come si faceva la filosofa per stone ah si dice uno due tre no poi uno due tre e quattro e il diamante in mezzo ecchi da chi la filosofa per stone questa ovviamente la riga allora con la c si apre il trap e con la v si ricarica ok ricaricato bene no che cazzo fa allora premendo shift su un pezzo di terra allora se allora ragazzi non voglio fare una cazzata se premo direttamente il tasto destro questa diventa sabbia e cade ma se premo shift diventa pietra se premolo così diventa stone se posso shift senza shift e così via vai grazie ok abbiamo la caverna tutta stonata tutta stonata vabbè io vedo che qua potrebbe bastare e come si fa la cosa con ehm come si chiama come si chiama ah trasmuta si qua mi dicevo non connesso vabbè ragazzi a tra poco che risolvo questo problema ci vediamo a tra poco scusate ragazzi non so ma internet io ce l'ho però non so che succede e che cazzo faccio lo possiamo diamante questo 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 un po' posiamo la stone la coble allora come si fa la trasmutata in tablet ok transmutation ok poi più avanti faremo quella portabile ma ci servirà molto questo questo ok ho capisciuto ok ok allora ehm questo qua mi sembra cioè qua mi sembra la stone che basta si basta e poi questo e abbiamo la transmutation table questo è da riparare ecco allora ragazzi io ora mi metto e vi faccio imparare tutto quello che ho ma a telecamera spenta e perciò con questo episodio vi dico che da molti carmine dice tutto ciao a tutti